Inaugurata negli spazi del sito monumentale Museo Civico di Castelnuovo al Maschiangino e in programma fino al 22 novembre la mostra promossa dall'Associazione Arte e Madì Movimento Internazionale Italia Aspetti dell'astrattismo internazionale a Napoli a cura del critico Enzo Battara e di Ciro Pirone, presidente dell'Associazione Arte e Madì Movimento Internazionale Italia e organizzata dagli artisti Enea Mancino, Renato Milo e Antonio Perrotelli Nella rassegna esposta 24 opere degli artisti Madì Aldo Fulchignoni, Alberto Lombardi, Enea Mancino, Renato Milo, Antonio Perrotelli e Marta Pilone otto opere di artisti costruttivisti Carmen Novaco e Mario Stoccuto il progetto artistico con partenza da Napoli toccerà altre città nell'ambito del territorio nazionale realizzato un catalogo a colori con incluse foto delle opere in esposizione bibliografie degli artisti, testo critico e testimonianze varie tra queste quelle dell'assessore alla cultura del comune di Napoli Nino Daniele e ai nostri microfoni Ciro Pirone Il tema di è l'abbandono del quarto angolo ortagonale per la libertà di invenzione e poi ci rifacciamo ai colori di gandischi quindi abbiamo in questa mostra questo confronto un contraddittorio in queste circostanze a beneficio della ricerca perché nascono sempre nuovi spunti nuovi spunti